Musica Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camera 89 Siamo tornati su The Order Signori, è l'una di notte E siamo pronti a continuare questa fantastica avventura Spero che il video di pranzo, perché ve lo metterò a pranzo e questo ve lo metterò a cena Forse insieme a Resident Evil Ve faccio fare una magnata dei video che oggi non finisce più Non mi interessa, perché questo gioco dobbiamo giocarcelo sul nostro canale Mamma mia Poi ragazzi, vi giuro, è qualcosa di emozionante A me questo gioco mi piace tantissimo Perché comunque anche se è su binari Perché potrebbe essere su binari E quindi non proprio un open world, giusto bambolina Mi eccita Mi eccita, perché per me un gioco non deve essere necessariamente vasto No, non mi interessa Io voglio la trama Voglio una buona grafica Che può essere anche non necessaria per un buon titolo Assolutamente E mi voglio divertire Il gioco mi deve piacere Assolutamente Poi mi sembra anche abbastanza logico Giorno messie Che bei baffi Che bei baffi messie Vediamo un po' che cosa c'è qua Misteriose sparizioni a Wittich Pelsch E se la città non la conoscete quella città Siete un po' ignoranti voi Perché è vicino a Hotongong A Wittich Spruz Quindi Andiamocene per di qua Ho diviso i video perché non ve li voglio fare troppo lunghi Cioè a me Ok Non mi sembra Ah lo giro E allora c'è qualcosa qua Ok Non c'è niente che Non mi va di fare i video troppo lunghi Perché se uno poi non c'è tempo di guardarselo Buongiorno Buongiorno messie Anche lei è molto 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 simpatico Con quei baffi Però io vorrei andare a sparare In questo preciso istante Buongiorno Ripara l'ascensore Entriamo in questa porta Madonna Sono in strada Arrivo Mamma mia Sono curioso di vedere l'effetto Muoviti eh E X è per saltare Ma perché se scendavamo dalla porta no Vabbè Ragazzi E c'è chi Fa come gli pare insomma Nuovo faccio pulito Dopo di mattina Fai scena dal letto Mezzo un po' dalla finestra C'è pure l'inferiata così Mi rimango pure incastrato Scendi va Vediamo un po' se prende un po' il via sto gioco Ma sicuramente Mo' succederà un casino Di quell'impression Ma sì Ma che te frega Te No Negativo Idem qui Probabilmente è in giro dietro qualche sottame Come è Beh come è il suo solito Capisco una perplessità ma credimi È un tipo affidabile Sì E lo dici tu Madonna Il respiro come si sente più potente Sto assegnando gli ultimi agenti alle loro postazioni Questo piagne Madonna ragazzi è bellissimo Bellissimo Delimitate l'intero quartiere Ma senza dare nell'occhio Che succede Come hai fatto ad arrivare così presto Ho trovato la porta aperta Devo ammetterlo Hai il passo svelto per un uomo della tua età Ma Nessun cavaliere si risentirebbe per un vecchio da una donzella Mio signore Questa donzella non si spingerebbe a tanto Non è così insensibile Certo Easy Come potresti Eh Madonna ragazzi Dei folli Fuori controllo Percival lo ritiene un diversivo dei ribelli Speriamo che tu non abbia perso la potenza Ah bello Ah bella Era il migliore Da giovane A cura Te la cavi ancora Ma io son più brava Ah Me coglioni Sì signora E Green Rispondi Ricevuto Percival Diversi fuggiassi avvistati all'ingresso est della stazione della metropolitana delle unità Intercettali con prudenza D'accordo Forza Gray Muoviamoci Comunque vi ricordo che ci ha detto Di cercare di non utilizzare Armi Praticamente che potrebbero Uccidere Eh indicatore L'ho visto l'indicatore Se mi fai correre Magari Perché io sto premendo il tasco Finalmente Finalmente Fatemi un po' correre Madonna mia Perché poi mi hanno detto Sai il sistema di questo gioco è un po' alla Gears of War Se fosse così io piango Sento sparare Sento sparare Siamo dentro Non deve passare nessuno Sicura Non ti serve aiuto Cara Intendi un vero uomo Che prenda in mano la situazione Esatto Fuori dai piedi E restaci Sia mai che qualcuno Ti sparasse per sbaglio Chi è lui? Problemi? I soliti mercenari Dal grilletto facile La compagnia delle Indie Unite Ha una predilezione Per i fanatici L'ultima cosa che vogliamo Sono degli esaltati Che seminano altro caos Ho detto loro Di restarne fuori Beh Mamma mia ragazzi Però con De posso dire che Il doppiaggio è buono Scappano Che hanno visto? Madonna che tensione Aumento l'audio Sti cazzi Madonna Mi sono aumentato l'audio Al massimo delle cuffie Uh Sì 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 Posso usare l'arma? Arma secondaria Ok Eh ma non posso Ah posso mirare Eeeh Mamma mia Ricaricare Ok Ah Ok Se ricarico Devo solamente impararmi Bene i tasti Ma perché Per forza l'arma secondaria Non posso mettere l'arma primaria? Ma non ho capito Sono pazzi Pazzo Trovate delle armi Eh sì Mi sa che sono pazzi Forza Vai Andiamo Bastardi Maledetti Vieni Vieni qua Ah Eh mi sa che Uh Ragazzi Il sistema di copertura E' Gears Cioè Però dico Oh Mamma mia Se è solo Madonna che bello Sta gioco Ah Mamma mia Triangolo Ah per prendere le munizioni Ok Ok E allora non mi volevi far usare questa a me Bello Te faccio fuori miliardi di esseri umani con questo Prendiamo le munizioni Ah no 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 Rivoglio la mia Rivoglio la mia Beh intanto Mamma mia Certo E' molto più forte Il Mamma mia E' più forte il mitra Potrei andare anche un pochino Più piano E fare le headshot Ma Sinceramente Il sistema di vita Vediamo un po' se si recupera Sì Ragazzi Ragazzi questo è Gears Però a me non mi sta bene Che state camperando così tanto Io ve lo dico eh Ah Ma c'è anche il blind Sì C'è anche il blind Il blind fire Ok Chi è che me spara Ah bello Eeeh No non mi ce fa sparare Pensavo che era tipo un GTA no Ah R1 Oh Che cazzo ho sparato Ho sparato tipo il fucile a pompa Bella Ha bloccato la porta Eh Sento altri rumori all'interno Oh A pezzo di Quindi Presto Dentro ci sono altri folli Eeeh Aspetta qua mi dice Che Ok Oh R1 Ah Ah E' per stord Ah E' per stordirlo Che vedo un verme che corre Un brugo Cazzo Ah E' per stordire Pensavo che fosse Spalla sinistra Stai bene Che cos'è sta roba Oh Oddio Mi massacrano Pronta Liberiamoci di questa freccia Madonna mia Fumogeno D'accordo Ok Fumogeno E lo lancio con Oh Ne lancio pure uno la Andiamo Ok Madonna Mamma mia Ragazzi Pure il blind Oh Non so che cazzo Sto fa ma ci sta Oh Vedi Carica Carica Zio Carica Che devo andare a fare le stragi Mamma mia Chi è Quanta gente Ma allora ci devi Crepare Mamma mia La mira non è facile La mira non è Assolutamente facile Qua ho visto che posso Prendermi Ah 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 Ok mi sono preso le munizioni Faccia di me Madonna E che Mamma mia E' bellissimo E' bellissimo Madonna se c'è Multiplayer Me lo gioco tutto Su questo gioco Adesso sto In app tra l'altro Ve lo dico Sto in app Quindi Non posso vedere se c'è Il multiplayer Ma se c'è Mamma mia Togliete Boom Ce n'erano altri di sopra Dobbiamo trovare il modo Di salire E' C'è un ascensore Signorina c'è un ascensore Prendi Prendi Madonna ragazzi Mamma mia Fammi passare Fammi passare Fammi passare Non me fa passare Ripuliamo il secondo piano Con calma Giustamente Madonna è bellissimo Ma la farita? Tutto di tuo gradimento Sinora? Sì Più o meno La solita mattina Londinese Concordo Ma sì Con tranquillità Non è che Siamo arrivati Prima le signore Madonna ragazzi Fai piano Pensi che dovremmo fare secco qualche riccone? Non dire altro Uuuuh Zitto 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 Uuuuh Maronna Bello Mamma mia Mamma mia Mamma mia Cari miei Cari miei Io vi faccio fuori Vi faccio Oh mazza che male che fa questo Ah stronzo Vieni 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 Ah E lo so che è libera Ho fatto secco un sacco di stronzi Qua? No Forse sto anticipando il gioco Potrebbe anche essere Sapete? Quando vuole guardi Quando vuole Madonna le bottiglie Ci hanno anche la fisica E fin qua ci sta Uuuuh Che cos'è? Ah ah Madonna mia Ah così cambio Ah c'è manca Madonna c'è tutto C'è tutto sto gioco Mamma Madonna Ma che cazzo sta da di? Come faccio? Come faccio? Ah messa che L1 È tipo una cosa Che mi si ricarica Ok 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 Non si dicono certe parole Oh Vabbè quello l'ho sparato giusto per Madonna Friends E questo non si sa quante cose Mi devo imparare adesso Cioè che mi devo ricordare Non mi ricorderò mai tutto Signore Signore Di sotto Dei civili hanno bisogno di aiuto Signor sì Ecco Signore il generale Lafayette è di là Meno male che c'è il generale Lafayette Ma scherziamo? Cosa? C'è una donna in questa città Che non cercherebbe di sedurre? No Ora è un problema tuo Cerca di non restare indietro Grazie Gentile Lafayette Ah Monsieur Questa dama richiede le mie attenzioni Marchè Ah è quello che non ci ha sparato Le tue attenzioni sono richieste altrove Le assicuro mademoiselle Che se declino il suo invito È solo per attenermi al voto di lei Oh Marchese Non può andarsene ora E invece Grazie Mi ha tirato un bacino Ok Il salvataggio ce l'ha fatto Donna affascinante vero? Non ci ho fatto caso Non sei francese Sei il francese più americano Che abbia mai conosciuto Io amo la libertà mon ami Un cavaliere deve dominare le passioni Senza passione monsieur Non si può combattere Non combattiamo contro uomini marchese Uomini? Mezzo sangue? Fa differenza? Vive la libertà E vive la baguette Giusto così C'è qualche impiccio Strano Vero? Vero? Questa è che qui c'è un gomblotto Andiamo Finalmente Sì ma stai calma Marchese Tu e Lady Grey Andate da lì Io entro da quest'ingresso E mi occupo degli altri fuggiaschi Ok Grazie Lei è veramente gentile Signori Che dire? Mamma mia Questo gioco è spettacolare Ve lo dico È spettacolare E mi pronuncio Già da adesso Prenderà posto A La serie serale Di Resident Evil Quando finirà Resident Evil D'accordo? Signori Che dire? Lasciate tanti pollicioni in su Commentate Condividete Se vi è piaciuto Al prossimo appuntamento Col vostro 10-89 Ciao ciao